Cari amici, benvenuti sul canale poetico Savinotesse. Ho creato una nuova poesia dal titolo La Magnificenza della Sua Voce. Spero dopo la condividerete a tutti e farete iscrivere tutti i vostri amici al mio canale YouTube Savinotesse attivando la campanellina delle notifiche. Considerazioni sulla poesia. La voce del Signore emana dei giusti decreti sacri e lavora con grandioso splendore donando saggi onori magistrali. Quindi il Signore è ricco nel suo insegnamento, degno e sapiente, forte della propria maestranza divina e ricco di fede operosa. Vi leggo adesso appunto la poesia dal titolo La Magnificenza della Sua Voce. La voce del Signore emana dei criti sacri e lavora con sommo splendore donando saggi onori magistrali. Il suo Magistero è ricco di pace e speranza grandiosa e di un fare lieto e sincero con una degna fede operosa. Il suo operato e lodevole è ricco di progetti di luce e in tono forte e splendente ci offre il segno della pace. La magnificenza della sua voce è un limpido segno sacrale e ci offre la solenne passione della vita stupenda e cordiale. Grazie, spero la condividerete a tutti. Arrivederci.